Ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino ora minaccia azioni legali e lancia un appello che devono aprire un po gli occhi non andare direttamente a fare un vaccino così a occhi chiusi perché con il cuore non si scherza e bisogna informarsi bene si svolgeranno lunedì alle 15 a Sant'Orso i funerali di Alessandro Minardi il centauro deceduto nel tragico schianto a Rosciano di Fano panchine di velte cartelli danneggiati schiamazzi notturni l'appello dei residenti di Centinarola ai giovani alle famiglie il vostro gesto di un minuto distrugge il lavoro di anni la candidatura di Massimo Berloni a Fossombrone spacca la Lega due esponenti del partito si dimettono mentre il resto del movimento si ricompatta e appoggia la lista dell'imprenditore della morte taglio del nastro oggi per la diciannovesima edizione del brodetto feste l'evento dedicato alle zuppe di pesce che fino a domenica ospita chef stellate star della tv occhio alla notizia in studio Marco Ferri benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale cari telespettatori di Fano tv sul canale 17 c'è occhio alla notizia il telegiornale che apriamo questa sera con la storia di un noto dj marchigiano che dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino è stato ricoverato per miocardite ora minaccia azioni legali e lancia un appello a informarsi sugli effetti collaterali del siero simona zonghetti i video dei colleghi messaggi degli amici e decine di telefonate stanno tenendo compagnia ad alessandro baldini 38 anni consulente pubblicitario e noto dj di mondolfo che da lunedì scorso è ricoverato nel reparto di cardiologia all'ospedale santa croce di Fano la sua disavventura è iniziata al sabato precedente quando ha ricevuto la seconda somministrazione del vaccino moderna la sera ha iniziato ad accusare brividi e malessere si è misurato la temperatura con un termoscanner e ha scoperto di avere 38 e mezzo via di tachiperina e al lavoro anche il giorno dopo ad un altro matrimonio la notte però è iniziato il calvario verso le tre infatti si è svegliato con un forte dolore al petto il suo medico di base gli ha detto che doveva recarsi subito al pronto soccorso e così ha fatto dopo tutti gli accertamenti tra tamponi analisi del sangue più risonanze e tac è arrivata la diagnosi una miocardite legata al vaccino tanta la rabbia del giovane che ha sempre mantenuto lo spirito che lo contraddistingue come si nota nei post pubblicati sui social alessandro come sta avuto un bello spavento Eh sì, eh sì, purtroppo stavo meglio prima Sa nulla delle sue dimissioni? Purtroppo delle mie dimissioni ancora non so nulla anche perché il primario, il dottor Rocchi non si è voluto sbilanciare e quindi al momento so solo che dovrò rimanere qua almeno almeno un paio di settimane Perché la tengono costantemente sotto controllo ancora? Esatto, sono costantemente sotto osservazione, ho qui un monitor che praticamente mi segue tutti i passi che fa al mio cuore la situazione diciamo dei battiti e tutto quello che riguarda il discorso cardiaco e poi sto facendo una cura per quello che riguarda invece i valori del sangue, l'omoglobina e anche il discorso dell'infiammazione della miocardite in sé per sé Inoltre Alessandro continua a prendere il cortisone in compresse e tutta la documentazione medica è stata inoltrata all'Agenzia Italiana del Farmaco ancora incredulo per quanto successo, il 38enne evidenzia una scarsa informazione sulle possibili conseguenze del vaccino Un effetto collaterale che ti va a rovinare irreparabilmente l'apparato del cuore Io penso che non sia un effetto collaterale ma sia più un danno Nessuno mi aveva detto che dovevo fare un siero logico per capire il mio stato immunitario E valutare di conseguenza se procedere con la seconda dose In questi giorni Alessandro si è anche informato su quante siano state le reazioni avverse Ma mentre i dati pubblicati dal Ministero della Salute Italiano sono fermi al mese di maggio Il sito americano è aggiornato al 19 agosto E rende noto che su un campione di 1377 segnalazioni di miocardite Per 780 è stata accertata una correlazione con il vaccino Ha intenzione di intraprendere delle azioni legali o quantomeno lanciare un appello alle istituzioni? Io vorrei fare uno e l'altro Sicuramente lanciare un appello più che alle istituzioni e anche alle persone comuni come me Che devono aprire un po' gli occhi Non andare direttamente a fare un vaccino così a occhi chiusi Perché con il cuore non si scherza e bisogna informarsi bene Purtroppo l'informazione ce la dovrebbero dare gli organi competenti Non ce lo danno, non capisco perché non lo danno queste informazioni E quindi dobbiamo informarci noi Informandoci dobbiamo capire se il nostro corpo può assorbire la seconda dose Perché la seconda dose è molto più potente della prima Dobbiamo stare attenti Ieri abbiamo trasmesso una breve intervista del direttore sanitario di Marche Nord Edoardo Berselli che ci ha anticipato alcune informazioni sul suo stato di salute Le ha ascoltate? Sì, le ho ascoltate Le ho ritenute molto molto superficiali Perché sono state dette in modo molto frettoloso Il signor Berselli gli vorrei dire che io sì, sto bene, sono migliorato e tutto Ma mi sono fatto anche i primi giorni di cura Ben nove ore di flebo Ho fatto tante analisi Ho passato due o tre giorni veramente da incubo E dire subito, è stato bene subito, così, semplicemente Io vorrei vedere se suo figlio era stato male come sono stato male io Ci avrebbe parlato nello stesso modo Perché non è giusto stare in una stanza di ospedale Per aver fatto un bacino Quindi per aver fatto una prevenzione per gli altri, per me stesso E poi ritrovarmi all'ospedale Non è giusto Bisogna che le istituzioni si prendano la responsabilità di queste cose Assolutamente Nelle ultime 24 ore, nelle Marche, si sono verificati due decessi legati al virus Sono due anziani della provincia di Macerata con patologie pregresse Tra le nuove diagnosi invece i positivi registrati sono 114 Di cui 29 nella provincia di Pesaro e Urbino Negli ospedali della regione ci sono due ricoveri in più rispetto a ieri Per un totale di 83 Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva Mentre salgono di uno i degenti in semi intensiva Si svolgeranno lunedì alle ore 15 Nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti A Sant'Orso di Fano I funerali di Alessandro Minardi Il 57enne Deceduto l'altro ieri nel tragico schianto Avvenuto nello spartitraffico di Rosciano Contro un Audi A4 Condotta da un milanese di 26 anni I vigili del fuoco sono intervenuti invece nel comune di Montegallo in provincia di Ascoli Piceno Per soccorrere un ciclista che stava Percorrendo un sentiero di montagna E a un certo punto è precipitato in un dirupo per circa 30 metri I pompieri lo hanno raggiunto grazie alle indicazioni degli amici che erano con lui L'elicottero poi dei vigili del fuoco lo ha recuperato e trasportato all'ospedale di Ascoli Piceno E un ciclista, un altro ciclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale Avvenuto questa mattina alle 11.45 in via Roma a Fano All'altezza del distributore di carburante Esso Si tratta di un anziano fanese di 81 anni Che si stava spostando dalla pista ciclabile lato Ancona A quella opposta Quando è stato urtato da una Fiat Panda Condotta da una donna del posto di 73 anni L'uomo che è caduto a terra è stato portato al Santa Croce di Fano Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge Atti di vandalismo invece nel quartiere di Centinarola di Fano I residenti stanchi di pulire e di aggiustare i danni provocati In particolare nei parchi Lanciano un appello alla comunità La polizia del parco è affidata alla cura e al senso civico di chi lo frequenta Recita così il foglio affisso all'ingresso del parco di via Caprera A Centinarola di Fano Un richiamo alla responsabilità di chi lo frequenta Che però non produce gli effetti sperati Ci troviamo nello spazio verde di fianco all'ex scuola elementare Nato dalla volontà e dal progetto di un comitato Che si era costituito tre anni fa Grazie al sostegno del comune di Fano I residenti sono riusciti a realizzarlo Ma c'è chi non ha rispetto per la cosa pubblica Panchine di velte, cartelli informativi danneggiati Ma anche sputi sulle macchine e schiavazzi notturni Un problema che riguarda pure altre zone del quartiere E che esaspera chi ci vive E chi si adopera per sistemare i danni provocati Anche la segnalazione nasce per questo Per accendere un riflettore Su la necessità di un senso civico C'è gran parte dei frequentatori che lo rispettano Chi viene a fare ginnastica Chi a giocare bambini, anziani Però c'è sempre il gruppettino Che vuole esagerare E diciamo che Che con il gesto di un minuto Distrugge il lavoro di anni Di progettazione di anni Quindi una richiesta A tutte le persone che vivono in quartiere Di frequentare il parco stesso Perché frequentandolo già Lo si protegge E allo stesso tempo Diventare tutti Tra virgolette un po' poliziotti Non avere sempre la necessità Di chiamare le forze dell'ordine Dare un occhio E valorizzare questi posti Rendendoli sempre più vie Questi episodi devono finire Si legge in uno dei messaggi Arrivati alla nostra redazione Il luogo è per tutti Ma ha delle regole Che vanno rispettate Altrimenti saremo costretti A malincuore A prendere dei provvedimenti Come togliere definitivamente il tavolo E loro sono solo alcuni Delle persone che puliscono il parco E riparano quanto rotto E poi ci sono i bambini Che lo abbelliscono Con creazioni del tutto particolari Questo ad esempio È del filo di lana Utilizzato per sistemare La rete di Velta Cerchiamo un po' Di fare la spola Tra casa e parco E darci dei turni Per rendere dignitoso l'ambiente Un ambiente ripeto Che è stato pensato In una dimensione molto intima Quasi magica Quindi con giochi diversi dal solito E atmosfere diverse dal solito Ci tenete a lanciare anche un appello All'intera comunità? Sì esatto Abbiamo fatto la segnalazione Proprio per questo scopo Per lanciare un appello Oltre che ai genitori Dei ragazzini Che vengono qua Anche alle forze dell'ordine Che vengono a controllare Ma anche proprio al senso civico E alla responsabilità di tutti Perché è un posto pensato Per tutti Per il benessere di tutti E quindi Vale la pena Proprio Valorizzarlo anche Tre auto sono rimaste coinvolte In un incidente avvenuto Nel primo pomeriggio A Cucurano di Fano Una Tiguan condotta da una 37enne Stava transitando lungo la Flaminia In direzione Monte Quando si è fermata Per immettersi in un passo privato Ed è stata tamponata Da una Smart guidata Da un fanese di 63 anni A causa dell'urto La Volkswagen ha fatto Una rotazione di 90 gradi Finendo parzialmente Nell'altra corsia di marcia In quel momento Dal lato opposto della strada Stava sopraggiungendo Una T-Rock Condotta da un 64enne Che ha colpito la Smart Facendola ruotare completamente Tutti e tre I conducenti hanno riportato lesioni E sono stati trasportati Al pronto soccorso di Fano Un'auto invece si è sfrenata Ed è finita in mare È successo questa mattina Al porto di Ancona Dove la vettura Che era parcheggiata La banchina 21 È caduta in acqua Dopo essere rimasta In galleggiamento Per qualche tempo Per breve tempo Si è adagiata sul fondale Sul posto I sommozzatori Della Guardia di Finanza E la sezione navale Dei Vigili del Fuoco Che hanno imbracato E issato il veicolo Utilizzando l'autogru Sono seguite le ricerche Per scongiurare L'eventualità Che a bordo dell'auto Fossero presenti Delle persone Rimaniamo ad Ancona Perché questa mattina In località Grotte del Passetto Un uomo di 60 anni Ha riportato un trauma Alla testa Dopo una caduta accidentale Il 118 Dopo aver prestato Le prime cure Con l'aiuto Della guardia costiera Ha poi trasportato Il ferito All'ospedale Di Torrette E adesso La politica locale Con le elezioni Amministrative A Fossombrone Dopo l'uscita Dalla Lega Di due esponenti Contrari Ad appoggiare La candidatura Il candidato Massimo Berloni Oggi sono arrivate Le motivazioni Di chi invece Sostiene L'imprenditore Della moda In un comune Importante Come è quello Di Fossombrone A volte Bisogna mettere Da parte Le bandierine Di partito Per dare spazio Alla competenza La Lega Sta con Massimo Berloni Candidato sindaco Alle elezioni Amministrative Che si terranno Il 3-4 ottobre Nel comune Di Fossombrone Dopo l'uscita Dal partito Di due rappresentanti Che non condividevano La scelta Gli esponenti Regionali e locali Hanno incontrato La stampa Nel chiostro Di Sant'Agostino Siamo convinti Ha detto L'onorevole Marchetti Intervenuto al telefono Che solo chi Nella vita Ha saputo realizzare Con serietà E capacità Qualcosa di importante Partendo da zero È una persona Che saprà valorizzare Un territorio Come Fossombrone Riportando la città Protagonista A livello marchigiano Abbiamo lavorato Di un programma Concreto Non il solito libro Delle favole Ma un programma Che parla di città Di rilascio Di collegamento diretto Con la regione Con il Parlamento Con il governo nazionale E a cui Se diranno Chiaramente Risposte E la massima Disponibilità Per quanto riguarda La Lega Ad aggiungere Alcune precisazioni Sulle motivazioni Che hanno spinto Il partito A sostenere Il noto imprenditore È il commissario Provinciale Mauro Lucentini Questa è una scelta Che è stata Già ampiamente Sviscerata Nelle sedi Del partito Locale E poi Provinciale Regionale Abbiamo la possibilità Di avere un candidato Sindaco Che è un imprenditore Di successo E ha dimostrato Sul campo Che sa fare E quindi La politica A volte deve aprire gli occhi E deve fare un passo indietro E non mettere La solita bandierina Di partito Il solito militante Che viene candidato Sindaco Siamo convinti Della scelta Lo abbiamo fatto Anche a Macerata Dove abbiamo candidato Sandro Parcaroli Un altro imprenditore Di successo E i numeri Ci hanno dato ragione Qui non so come saranno I numeri Però siamo molto convinti Della scelta La strada provinciale Per tre giorni Ci saranno tanti eventi Abbiamo contato Oltre 50 eventi Che per tutti i gusti Dai bambini Dalla promozione Del pesce Per i bambini Fino alle due Grandi novità In questi tre giorni Ci saranno tante riconferme Poi per quanto riguarda I personaggi presenti al festival Tanti chef che si alterneranno Sul palco centrale Al palabrodetto In questi tre giorni Ci saranno anche delle novità Molto importanti Tra le quali Ne cito due Perché vorrei che i fanesi Venissero a Lido Proprio per gustare La Moretta Che avrà il lancio definitivo Dopo tanti anni Crediamo di lanciare L'immagine della Moretta Per tutti i fanesi E non solo Visto che si alterneranno Tanti barman Al Lido di Fano In una gara Per la valorizzazione Di questa bevanda Tipica della nostra città L'altra grande novità Per il quale Dico solo È da venire a provare È la pizza col brodetto La pizza col brodetto Perché abbiamo incaricato Una nota pizzeria di Fano Di costruire Se vogliamo La pizza con il brodetto E il risultato Vi posso garantire Che è veramente eccezionale Perciò In questi tre giorni Si avrà la possibilità Di gustare Tante tipicità Del nostro territorio Oltre chiaramente Al brodetto Ma anche tante altre cose Ce n'è per tutti i gusti E invito chiaramente Non solo Tutti i fanesi A essere presenti Qui a Lido In questi tre giorni Da oggi A domenica E la banca di credito Cooperativo di Fano Consegnerà domani I bonus Bebè Del valore Di 250 euro L'uno A 121 nuovi nati Nel corso Dell'ultimo anno Figli di soci O di dipendenti L'appuntamento È in programma Appunto domani Sabato Alla villa Del Bali E adesso Con Letizia Marchionni Parliamo di vino Si chiamano Riconviviamo Itinerario di vino E sono due progetti Aderenti a Marche Dalla vigna Alla tavola Finanziati dalla regione A sostegno Del comparto Produttivo Enologico Con il coinvolgimento Della ristorazione Il cui ruolo È stato rallentato Dalla crisi pandemica L'iniziativa Fortemente voluta Dall'assessorato regionale E dell'agricoltura E dello sviluppo economico È stata realizzata In collaborazione Con Confcommercio Pesaro Urbino Lanciare un tema Turistico Legato al vino Legato ai nostri vitigni E la cosa Senz'altro Più opportuna È quella di Sfruttare Le cantine Che hanno bisogno Di farci conoscere Non solo all'esterno Ma anche Nel nostro territorio Dai ristoranti Dai bar Negli alberghi E fare in modo Che nasca un movimento Che diventerà Quello su cui punteremo Tanto Che sarà l'enoturismo In questa fase Intanto Per la prima volta Sono stati usati I soldi Della promozione agricola Per far conoscere Attraverso i ristoranti I nostri vitigni Quindi sono nati Oltre 300 eventi Dedicati ai nostri vitigni Dentro La ristorazione Che è la prima forma Di conoscenza Dei nostri prodotti E anche la prima forma Di promozione Quindi Riteniamo Che questo primo Connubio Tra oreca E vino E quindi Attività vitivinicola Sia davvero Una grande opportunità Per le marche Abbiamo diversi progetti Anche nel territorio Che vedono protagonisti Direttamente gli imprenditori Noi abbiamo creato Un percorso Che per fortuna È stato raccolto Come sfida Da molti ristoranti Da molti bar Da molti hotel Grazie anche a Coffcommercio Che ha coordinato Questo progetto Credo che sarà L'occasione Di un protagonismo Imprenditoriale Che non è l'aiuto Non è l'assistenzialismo Ma è il rilancio Attraverso promozione E conoscenza Di quello che è Il nostro patrimonio Vitivinicola Due progetti Pensati per promuovere Il connubio Tra vino E cibo Nello specifico Il progetto Riconviviamo Prevede un calendario Fino al 31 dicembre Di serate di degustazione Aperte al pubblico Durante le quali 15 ristoranti Proporranno i vini Di 35 cantine E le migliori materie prime Del territorio marchigiano Risaltando nell'eccellenza Tramite i propri piatti E le etichette In abbinamento L'itinerario di vino Invece A cura della nuova Associazione Dei ristoratori Marche Nord Partirà il 15 settembre Per terminare Le 6 dicembre E sarà un viaggio Di 21 tappe Nei ristoranti Della provincia Di Pesaro e Urbino E di Macerata Per degustare 55 diversi vini Che accompagneranno I menu realizzati Per l'occasione È un progetto ottimo Perché consente Non solo di valorizzare Le cantine Marchigiane Ma anche di Valorizzarle Attraverso il mondo Della ristorazione Che voglio dire È l'interlocutore Principe Delle cantine Marchigiane E con l'itinerario Di vino Vogliamo anche Narare il territorio Quindi Spiegare dove Il vino nasce Quali sono le caratteristiche Del territorio Dove le nostre aziende Agricole Hanno trasformato Un prodotto Che una volta Era un prodotto Di limitata importanza Diventare invece Un grande prodotto Che valorizza Interamente La nostra regione Abbiamo spazio ancora Per due appuntamenti Il primo Questa sera La BCC Di Tre Ponti A Fano Ci sarà La compagnia teatrale Mazzamure di Senigallia Alle 21.30 Che porterà in scena La commedia Intitolata La panchina Mentre domani Alle 15.30 All'impianto sportivo Di Sant'Orso Si terrà Il quarto memorial Filippo Montesi Con tre squadre Partecipanti Il Sant'Orso Del Fino Fano E la squadra Di San Costanzo Dopo di noi Invece Le previsioni Del tempo Poi la pubblicità E uno speciale Uno speciale Dal titolo Marche Dalla vigna La tavola Realizzato Dalla regione In collaborazione Con Confcommercio Marche Nord Noi ci vediamo Domani mattina Alle 7 Invece Con il commento La stampa Del giorno Arrivederci